Sssssssssssssss Marciano, Marciano! Un'emergenza, Marciano! Ma penso ci sono, ma penso ci sono Ma questo cazzo, sei caldo lì, parlo lì, parlo lì, parlo lì, parlo lì... Cos'è succeduto? No no, sei caldo... Parlo lì, Marciano. Ma si, Marciano sulla tangenziale... Un enorme macchia d'olio. E va bene ma... A che altezza? Adesso volate voi, adesso volate voi, volate fuori da questo figlio, immediatamente. Sparite, dovete sparire, sparite fuori dai piedi, fuori dai piedi e prendetevi tre giorni di fede, anzi no, sette giorni di fede!